Sarà una befana un po' particolare, cioè a noi del mondo del fango, della corsa di resistenza, mancherà l'epifania del campaccio. Sì, perché il campaccio era, è un po' la partenza a livello nazionale, internazionale, quella vera, nell'anno nuovo, dove si cominciano a tirar fuori dalle calze, non le sorprese, ma a che punto si è arrivati con gli allenamenti. Quest'anno si è dovuto spostare, eppure io sono qui a fare i miei complimenti agli appassionati organizzatori che vogliono continuare a tenere viva la presenza di questa grande manifestazione che ci ha regalato un sacco di emozioni. Io racconto un aneddoto proprio personale. Il mio esordio nel 6 gennaio 2017, come nuovo responsabile dell'Endurance allora, è stato proprio comunicare al campaccio questa nuova nomina e questa avventura che poi mi ha portato due anni dopo, per svariate ragioni, a ritrovarmi oggi a parlarvi nei panni di direttore tecnico nazionale di atletica. Però aggiungo una cosa, trovo molto bella la vostra iniziativa e la nuova edizione sarà un giorno particolare. Il 21 marzo è il primo giorno di primavera e credo che sarà la primavera della rinascita di tutto lo sport ed è molto bello che questa nuova epifania sia ancora nelle mani del campaccio e che il campaccio sia il luogo nel quale tutti quanti assieme ripartiamo. Grazie.